Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. Mi è mai capitato di trovarvi di fronte a un file o una cartella che Windows non vuole o non riesce a cancellare? Esiste un piccolo trucchetto che potrebbe tornarvi utile, ossia quello di ricorrere a WinRAR, ossia il programma che permette di comprimere più file e più cartelle risparmiando spazio, impostando una password per evitare che occhi indiscreti accedino agli stessi, eccetera eccetera. Come fare? Se avete WinRAR installato, tasto destro sul file o sulla cartella che non riuscite a cancellare e cliccate su Aggiungi ad un archivio. Selezionate Elimina i file dopo l'archiviazione e cliccate su OK. Come potete vedere il file è scomparso ma è rimasto il RAR che potete tranquillamente cancellare con il tasto Dell o Canch sulla tastiera.